... Lo sa cos'è Weaver? il primo squarcio dimensionale era l'acceleratore di particelle ecco cosa stavano studiando con project dove sono? sono solo qui squadra d'assalto mi ricevete? Mi prendi questa. Molto efficiente. Squadra d'assalto. Rapporto. Che cazzo è successo? È incredibile, Weaver. L'anomalia è inutile. Non spiegально, non spiegheri. E' un colo. Azzinca! Noi ci reti credenti. Nasi metti! Noi! Grazie. 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 Grazie.